Buongiorno a tutte e a tutti, 7.08, mercoledì 31 gennaio, bentornati e ben ritrovati qui su Crystal Radio FM 96.2, DAB Plus, applicazione, sito, insomma, non potete non sentirci, ovunque voi siate potete sentirci, ma potete anche interagire con noi, 331-78-535-555. Numero di Whatsapp, foto, video, messaggi, quello che volete, noi siamo qui per condividere la mattinata insieme a voi, per farla insieme fino alle 9, così anche leggendo un po' i giornali, avremo degli ospiti che verranno a trovarci, mattinata lunga, mattinata impegnativa per molti, oggi a Milano, sì sì sì, fa freschino, un po' meno rispetto a ieri, ma fa ancora freschino, c'è ancora il blocco del traffico, sì, quindi ricordiamo che quasi tutti i diesel non possono circolare dall'Euro 4 in giù, Euro 4 compreso e anche con il FAP, insomma, poi dopo le vediamo bene queste cose, perché dopo prendiamo in mano i giornali, capiamo per bene tutto quanto, iniziamo con la musica, quella di Giordana Angi con tutto a posto insieme a Loredana Vertè. Liam Gallagher, Diamond e poi qualcosa, ma sono perso il titolo, Viola stamattina siamo distratti, siamo, com'è che funziona, vabbè, ma siamo distratti perché è arrivato il nostro ospite di oggi, Selin Natur, buongiorno Selin. Ciao, buongiorno. Buongiorno, che bello avere qualcuno qui alle 7 e un quarto del mattino, di solito siamo sempre soli io e Viola, invece che bello avere qualcuno. No, infatti mi sono svegliato oggi così presto, ho detto, ah ok, oggi inizio così, ok. Da che parte di Milano arrivi? In realtà vicino a Garibaldi. Ah beh, ok, neanche così lontanissimo diciamo, ma ormai tanto, ma Milano poi è piccola. Milano è piccola, diciamo quello. Diciamo quello, lo può dire chi, chi come te ha vissuto a Londra per tantissimi anni, no? Esatto, Milano è un paesino. È un paesino, c'è chi dice che siamo la più piccola metropoli al mondo. Sì, ma ci sta, c'è Milano, è quella città che ha tutto, ma è così piccolo, però ci sta. Però nonostante, Salina, tu sei giovanissima, quanti anni hai, Selin? 24 anni. 24 anni, studi qui a Milano, adesso lavori, adesso lavori, lavori in che campo? Nella moda. Campo della moda, quindi non c'era altra città in cui si poteva andare. Esatto. O era meglio andare a Parigi e poi siamo finiti a Milano. Sì, ma in realtà ho lavorato anche a Parigi, però Milano ha il mio cuore. Oh, segniamocela questa. Milano 1, Parigi 0, abbiamo vinto su Parigi. Fai dei video, io ti ho conosciuto così, no? Detta così è proprio detta da boomer. Ma nel senso che tu ti ho conosciuto perché appunto su una pagina Instagram che si chiama? Musica Bella da Dio. Diciamo, consociata con Milano Bella da Dio, quel mondo lì, una joint venture diciamo. E fai questi video dove in perfetto inglese, che anzi sono comodi anche per imparare l'inglese se volete. Esatto. Sono comodissimi. Vai in giro a fare domande sulla musica appunto ai milanesi. Trapperti tantissimi milanesi e non milanesi, in senso tantissima gente che vive qui, ma appunto stranieri, gente che è qui per studiare e lavorare. Dall'idea di una grande città infatti. Sì, ma infatti c'è in generale, un paio di persone hanno commentato dicendo che io intervisto le persone che non sono italiane. Però in generale Milano è una città internazionale, quindi devi avere anche un outlook internazionale. Ecco, cioè si può essere non italiani ma milanesi. Esatto. Perché una volta che sei qua poi alla fine diventi milanesi a tutti gli effetti. Esatto. Poi non ho neanche detto che faccio interviste ai milanesi, ho detto il pubblico. Il pubblico, il pubblico. Dopodiché nell'ultima intervista si sono un paio che secondo me gli hai dovuto rifare la domanda in italiano. O sbaglio? No, no, no. No? In realtà no. Di signori che secondo me rispondevano un po'. No, no, non è vero. Sbaglio. Abbiamo chiesto in italiano. Però ho detto io te lo chiedo in inglese. Allora ho detto ok, va bene. No, è molto divertente perché appunto tutti i ragazzi rispondevano tranquillamente anche con la pronuncia giusta e tutto. Poi c'erano un paio di signori della mia età che invece dicevano eh Lucio Batteste. No, infatti si vede la differenza. Comunque se volete seguire appunto Selin e le sue scorribande musicali alla città hai un profilo Instagram. Sì, sì, il mio nome è Selin Natur. Selin E Natour, scritto così, no? Giusto, ok. Ma insomma, Selin rimane qui con noi questa mattina almeno per un'oretta così possiamo scoprire meglio anche una Milano che appunto magari la conosciamo poco perché noi siamo solo quelli che rispondono eh, io ascolto Battisti. Però poi c'è quello che diceva I'm listening to Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. I'm listening to Kanye West. No, lui ha detto To Pimp a Butterfly by Kendrick Lamar. Ecco, che non ho idea di che cosa abbia detto. Invece so benissimo cosa dice Luce Verde perché ci colleghiamo in diretta per sentire il traffico. Ultimo, vieni nel mio cuore, 7 e 23 minuti, Good Morning Milano, 33178-53555. Siamo qui con la nostra Selin, che Selin tu prima hai detto che Milano è piccola, no? Con fronte all'altra città. Allora c'è arrivato un WhatsApp divertente che dice Quando qualcuno dice che Milano è piccola, un bergamasco muore. Buongiorno da quella di Bergamo. Buongiorno a chi ci ascolta anche da Bergamo e dalle città. Buongiorno. Pensa che quando uno dice che Bergamo è piccola c'è uno di Casal Pusterlengo che stramazza terra effettivamente. Cioè, se nago, ma ci rimangono male effettivamente. Pensa. No, però è vero, tu dici Milano è una città dove c'è tutto, però in realtà è una città piccola. Cioè, è una città piccola, però sì, ha tutto. Cioè, come metropolo, cioè sì. Tre anni che sei a Milano. Sì, tre anni. E cos'è che ti ha convinto a rimanere? La cultura italiana. Ulla. Mi piace. Poi, essendo libanese è molto simile, mediterranea. Sì, perché infatti tu sei cresciuta a Londra, però tu sei di origine libanese. Esatto. Prima fuori, diciamo, come, c'è un punto di mettere subito Mika, ad esempio. Esatto, esatto. Mika è un altro che ha di origini anche lui libanesi. E però hai trovato appunto in Milano la città giusta. Esatto, sì. E che cosa vorresti fare qua, in questa città? Oh, è una domanda grande. Non lo so, nel senso che adesso che sto facendo un po' di questa cosa con la pagina Instagram, musica bella da Dio, e sto facendo un po' di interviste, giornalismo per loro, vorrei entrare anche nella... Cioè, sono già entrata nella moda e vorrei trovare un modo di combinare tutti e due. Quindi musica e moda? Sì, sì, sì. Beh, insomma, sai che Milano è la capitale italiana della musica, tutte le major sono qua, quindi devi fare un bel giro, andare a citofonare a tutte le varie major, Universal, amici della Universal, amici della Sony che ci stanno ascoltando, amici di Warner e company, cioè, è qua. Sono tutti qua. Se volete, mandateci un messaggio anche voi, vi giriamo i contatti di Selin, va bene, così almeno, così lo facciamo. L'ultimo video che hai fatto, hai chiesto qual è stato il primo album che le persone hanno comprato, no? Esatto, qual era il tuo? Il mio è stato regalato, era Freddie Mercury con Monserrat Caballé, quello lì, quello lì, quello su Barcelona, quello lì, quello lì. Sì, 1992, credo, 91, era stato regalato, mi hanno regalato prima il CD e poi il lettore. Infatti ho detto, ma mamma, perché mi hai comprato? E mi fa, vai in camera a vedere. E c'era il lettore CD. Il lettore CD che ormai nessuno utilizza più ormai. Ma infatti la domanda è strana, perché effettivamente, cioè, la tua generazione non li compra gli album? Oppure comprate comunque gli album? No, ma io sì. Io mi ricordo che prima avevamo solo i CD e poi c'era la MP3 e poi c'era Spotify e YouTube. E io mi ricordo che avevo questa collezione di tutti i CD, tutti i Vynos, tutte queste cose. Ero molto appassionata. E infatti anche quando sono andata all'università li ho portati tutti con me, con la cassa anche. E ero a posto. Quindi non esiste solo lo streaming o lo Spotify? Cioè si compra ancora l'album? Se uno piace di qualcosa se lo prende? Sì, io lo facevo. Ok, il vinile lo si usa anche? Ce l'hai? Sì, sì. Però non ho la... Non ho il lettore, non ho il lettore. Però a me piace. Pensa cosa ho detto, il lettore, il giradischi. Infatti c'è anche io ormai, ormai sono completamente nell'epoca della musica fluida. Andiamo avanti con la musica invece. Questi album qui si compravano e come erano quelli di una volta. Sì, sì, sì. Quelli sono gli Spandau Ballet con True alle 7.26 qui su Crystal Radio. E poi ce li ascoltiamo dopo. Adesso un po' di pubblicità, gli Spandau Ballet e poi qui di nuovo in diretta. Lildas X Old Town Road. 7.36 minuti. Che significa che tra da 6 minuti, anzi non tra da 6 minuti, dalle 7.30 fino alle 19.30 di questa sera è iniziato il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti, perché sappiamo troppi giorni sopra il livello di smog del PM10 e quindi sono iniziate le prime per correre i pari. Quindi dalle 7.30 alle 19.30 non si circola fino agli Euro 4, quindi tutti i diesel fino agli Euro 4 non circolano. E adesso ho speso anche il move-in con la scatoletta che vi siete messi sulla macchina per poter entrare in area B anche se... Quella roba lì. Ecco, Selin, allora, il nostro ospite di oggi, good morning con te. Good morning. Il tema dell'inquinamento è un tema che, insomma, è ovunque. Adesso, non mi direi che a Londra non avevate questo problema. No, no, ma a Londra... Come lo risolvevate? Si va con i mezzi? Come si va con i bici? No, ma in realtà, tutti vanno con i mezzi. Tu non puoi guidare a Londra. Noi abbiamo la zona, l'area C qua, è anche peggio di là. Ok. Però, soprattutto, tutti usano l'underground. Tutti con la metropolitana, tutti con la metropolitana. Che, oltretutto, costa uno sfracelo. Costa molto di più rispetto a qui. Sì, sì. Però, hanno detto che da adesso fino a non so quando, hanno bloccato il tariffo. Ah, ok. E se tu usi, soprattutto, l'underground, l'autobus, tutto, è tutto sulla stessa carta. Quindi, lo bloccano ai 12 pounds per tutta la giornata. 12 pounds? Beh, in realtà non è allora così tanto di più rispetto a qua. No, però, se lo usi ogni giorno... Quale giornaliero ha 7,50 euro, una cosa del genere, mi sembra. Sì, però, se lo usi ogni giorno, cioè, 12 pounds ogni giorno, è tanto. Effettivamente, se fai l'edizione in colonna, effettivamente viene un po' tanto, sì. Eh, ma gli stipendi a Londra, no, non c'entra niente tanto anche per Londra. No, 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 ma adesso loro hanno un crisis. Una crisi. Sì, sì. No, ma i stipendi non sono abbastanza. Non so se tu sai quanto costa per abitare a Londra. No, allora, facci... Ecco, nel senso che dicono che Milano è cara. Così, almeno, Milano è cara. È cara. Però, virgola, però... Però, a Londra, no, non lo so, cioè, tutto costa di più. Quindi tu devi pagare l'affitto. Il cibo già là costa tantissimo, perché non ci sono i supermercati grandi. Ci sono solo quelli express. Ah, signore Selunga. Cioè, vada ad aprire un Selunga a Londra. Cioè, c'è una prateria di business. No, non credo di no. Non so se c'è lo spazio. Non so se c'è lo spazio, effettivamente. È vero, è vero, è vero. E poi devi pensare anche ai mezzi. Quindi tutti anche vanno, usano quelle city bikes, le biciclette per girare, che costa di meno. Però tu devi pensare, se tu cammini da Garibaldi al Duomo, ci metti mezz'ora, però è fattibile. A Londra, se tu vuoi andare a piedi, lo puoi fare, però ti metti almeno due ore per arrivare. Quindi usano la bicicletta. Ma quindi, la domanda del... Sai che a Milano siamo molto... Metropoli, europei, ma poi siamo di una provincialità assurda. Sai che noi qui il tema più importante di tutta la città, con tutto quello che succede, è le piste ciclabili. Sì, no, ma io uso la bicicletta, quindi... Ecco, ma era meglio usarle a Londra o a Milano la bicicletta? No, non lo so, tutte e due, c'è un pericolo. Ah, ok. Quindi, boh, io direi forse... Forse è Londra, perché c'è più la pista ciclabile. Quindi più facile la... Sì, sì, sì. Anche perché poi le distanze, come dicevi, sono anche un po' più ampie. O diciamo, c'è la Milano in mezz'ora in bicicletta, la traversi. Sì. Vai da una parte all'altra. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Alberto ci scrive, 12 pound sono 14 euro e ha la faccia, ha messo l'emoticon della faccia terrorizzata. Effettivamente, 14 euro al giorno costa tanto. Ma non è la... come si chiama? Oyster card. Vabbè, forse puoi fare... Oyster vuol dire ostrica, cioè, aspetta, cosa vuol dire? Esatto, sì, sì. Ma perché si chiama la cardostrica? Non lo so. Ok, io pensavo sempre di leggerlo sbagliato io, di fare una traduzione sbagliata. No, no, Oyster card, sì. Quindi la cardostrica si chiama? Però, cioè... Forse perché... Sai che ostrica quanto costa? Cioè, per quello... Esatto, costa così tanto che lo fanno anche per i mezzi. No, ma forse puoi fare un abbonamento, però in generale, da quanto so io, con tutti i miei amici, che ci sono là, costa troppo, troppo. No, ma se lo dite voi che ci avete vissuto, cioè, chi siamo noi per dire che non sia così? Sì, infatti, infatti. Quindi mi stai dicendo che a Milano si risparmia in confronto a Londra? Secondo me sì. Sì, secondo me sì. Però i stipendi devono macciare un po'. Aggiornarsi un attimo e mecciare, appunto, capito? Selina è l'unica che posso accettare il fatto che utilizzi questi inglesismi al posto di italiano. No, no, ma posso accettarlo. Sei di lì, quindi dici, posso accettarlo. Quando mi viene in viola che mi dice meccia o joinla, invece mi vuoi tirare qualcosa da dire, no, non lo dice viola, invece viola ha un vocabolario, la nostra viola è brevissima su quello. Quindi, ragazzi, avete sentito cosa ha detto? Cioè, in confronto a Londra, Milano è economica. Quindi, ogni mattina, quando vi alzate e dovete tirare e sbossar fuori quei 40, 50, 60, 300 euro all'anno di abbonamento a TM, pensate che in quel momento un londinese piange. Esatto. Mamoud, cocktail d'amore, 7,45 minuti, Crystal Radio, grazie ancora per tutti i whatsapp che stanno arrivando. Hai gettato nel panico il nostro pubblico, Selina, quando hai detto che Milano è economica rispetto a Londra. Ma vediamo se anche a Londra invece hanno questi problemi. Li leggo qual è la notizia del giorno su Repubblica Milano, poi voglio un tuo commento senza filtri, no filter. Ok, titolo di Repubblica Milano, bagni pubblici a Milano, il comune vince il ricorso con il TAR, in arrivo 110 nuovi servizi igienici automatizzati in città. Ragazzi, da non so quando abbiamo 110 nuovi cessi in giro per la città, ma super automatici. Ma dove lo mettono? Bella domanda, effettivamente. Non c'è parcheggio? Dove mettono questi bagni? Bella domanda, ma pensa, ho la risposta a questa domanda, perché Repubblica Milano, quando vuole fare le notizie fatte bene e approfondite, ha pubblicato anche la mappa. La mappa dei 110 nuovi bagni pubblici che arriveranno a Milano. Quindi vedi? Sono tutti intorno al Duomo. Allora, no, 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 pensa, ne mettono uno anche a Muggiano. Salutiamo gli amici di Muggiano, che sappiamo che ogni tanto vengono dimenticati. Ce n'è uno, penso, anche qua vicino a San Siro, ce ne sono un paio vicino, ovunque, Lambrate, vedo, fino a Grattosoglio anche. No, no, ce ne sono tanti. Ma la cosa interessante è questa. I 110 nuovi servizi pubblici saranno suddivisi così. 49 servizi igienici automatizzati in sostituzione degli impianti già presenti sul suolo pubblico. Quindi vengono cambiati, vengono ammodernati. 21 servizi igienici automatizzati da fornire e installare su nuovi siti già individuati e 40 servizi igienici automatizzati da fornire e installare ex novo dopo che, in accordo con il comune, saranno individuate le zone più sguarnite. Vedi? Oh, siamo una città moderna. Advanced. Dopodiché, tanto a prendere in giro, anzi, difendere e pubblicare questo articolo, perché tanto, tanto a riprendere. Ma uno, il film Perfect Days che c'è fuori adesso al cinema, non racconta la storia di uno che a Tokyo va a pulire i bagni pubblici? Ah, lui fa... Lui fa quello di mestiere. Vedi? No, riprende... E soprattutto Tokyo è famosa nel mondo per tante cose. Non solo per essere, ma per un progetto, ad esempio, degli Urban Toilet, che sono tutte state date in mano a degli artisti che hanno costruito questi, mi sembra, 30-40 bagni pubblici di design in giro per la città. Oh. Vedi? Quindi difendo... It's on theme. Vedi? No, cercatelo. C'è anche quello famosissimo che è completamente trasparente. Poi quando entrate diventa opaco. Ah, io ho visto quello. Vedi? Ecco, vedi? È vero, è vero. Vedi? Alla fine, ragazzi, qui, qui c'è influencer, speaker radiofonici, politici, tutti, ma ci accumula una cosa sola. I bagni. Bravissima. I bagni. I bagni. Dover andare in bagno. Quindi, alla fine, benvenga allora Repubblica col suo articolo. Va bene, ci sono i bagni pubblici a Londra, è meglio non avvicinarsi? Sì, 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 ma è meglio non avvicinarsi. Ah, ok, ok. Sì, ma è meglio non avvicinarsi, ok. La cosa che mi fa un po' sorridere è che il vincitore della gara d'appalto dovrà garantire la manutenzione di questi bagni per 24 anni a titolo gratuito. Cioè, questo gratis deve fare la manutenzione, questo va a finire in rovina, cioè i bagni sono sempre vandalizzati, vedremo, vedremo. Comunque capisci qual è il tenore delle notizie che possiamo dare su questa città? 331-78-535-55, il nostro numero di Whatsapp. Continuate a scriverci perché sono tanti i messaggi che stanno arrivando e poi, adesso poi parliamo un po' di musica allora, va bene? Ti mando quelli che adesso noi esportiamo nel mondo, tu arrivi dal mondo a Milano, invece noi esportiamo i Monoskin con Valentine. Monoskin, Valentine, e siamo ancora qui con Selina, anzi parliamo proprio di musica, perché appunto Selina tu collabori con la pagina, dillo tu? Musica Bella da Dio. Musica Bella da Dio, hai fatto vari video, era bello quello anche che avete chiesto la peggior canzone, chi è il peggior artista, come che era? Sì, il peggior cantante, cioè il cantante che non ti piace, qual era il tuo? Ariana Grande. Ariana Grande, ma poi cosa ti ha fatto, poverina? No, ma sai che in realtà è Taylor Swift. Ok, Taylor Swift, Women of the Year, l'hanno fatta. Allora, ti faccio una domanda che mi hanno fatto anche a noi, cosa ci siamo persi di Taylor Swift, che non capiamo? Perché la viene così tanto zannata da tutti quanti? Non lo so, io penso che lei, questo è molto controversial, però io penso che lei usa il femminismo come una defense, è un po' anche ipocritica, non lo so, lei ha così tanto... Un po' di pink washing potremmo chiamarla in un certo senso. Non lo so, lei ha così tanto potere, però non si usa in un modo utile. Ah, tu dici tanto potere, ma non la potenza è nulla, senza controllo, diceva qualcuno tanti anni fa. Poi non lo so, le canzoni sono un po' troppo... Basic. No, basic no, ma troppo pop per me. Ah, troppo pop, perché tu sei più verso... cioè invece se dovessimo chiederti qual è l'artista più bravo, il migliore per te, chi viene fuori? No, questo è difficile. Lana Del Rey? No, Lana Del Rey no, ma lei è brava, però a me piace tanto l'upcoming artisti inglesi di Londra, ce ne sono tanti che hanno tanto... Facci un nome che magari possiamo conoscere, cioè che non conosciamo, ma chi dobbiamo andare un attimo a scoprire di più? Loyal Kana. Eh, aspetta, che mio spell, please? Sì, L-O-Y-L-E. Low. Loyal. Loyal. Space. Kana. K-A-N-I-A. Kana. Kania. Kana. Ah, Karner. Vabbè, poi ve lo mettiamo sotto nei commenti, come dici in questo caso, va bene? Ve lo scriviamo, ho promesso che ve lo scriviamo. Invece il primo album che hai preso qual era? Era Kylie Minogue. Kylie Minogue. Ok, Kylie Minogue, quella ce la ricordiamo, la conosciamo tutti. Ti hanno stupito qualche risposta dei milanesi? Al proprio modo conoscevi tutti gli artisti che ti hanno detto? No, no, infatti io ero un po' frozen, quando mi hanno detto i nomi, c'è Ipu, ho sentito Ipu, va bene, anche noi, mi spia, no, scherzo, scherzo, scherzo. No, Led Zeppelin, quando la signora ha detto Led Zeppelin ero pleasantly surprised. Quelli li conosciamo, però Ligabue, sapevi chi era? No. Non sapevi chi fosse? Battisti? No. Sapevi chi fosse? De Grigogio, a un certo punto c'è uno che dice Rimmel De Grigogio. Sì, De Grigogio sì. Ah, ok. Quindi ce lo puoi cantare, com'è che fa? No, scherzo. No, no, quello no. Scherzo, 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 scherzo. Vabbè, quindi, Selina, allora, guarda, noi adesso dobbiamo andare in pausa col giornale radio. Ok. Io ti ringrazio di essere qui con noi, ma se vuoi puoi rimanere, decidi tu, fai quello che vuoi. Diciamo, ma potrebbe esserci, se lì dopo sì o no, deciderà durante il giornale radio. Decidetelo anche voi da casa, aperto il televoto, no, scherzo. Andiamo, andiamo allora con la pubblicità, con il giornale radio e con un po' di musica prima. Ricordiamo comunque la pagina è Milano Bella da Dio e Musica Bella da Dio e Milano Bella da Dio. Oppure Selina Natur, tutto scritto di seguito per seguire appunto le vicissitudini e le avventure milanesi di Selina Natur. Grazie. A te. Allora, andiamo con la musica. Aden, come si chiama questo? Aden Foyer. Aden Foyer. Con? Aden Foyer with Sunshine Prescription. Living in a Box con Living in a Box. E' una faccia di questi tempi facili dove si capiva chi cantava, come era la canzone, perché il nome era lo stesso. Questo era il Crystal History delle otto, che inizia adesso la seconda parte di trasmissione e in anticipo di un giorno, ma sempre, anzi, il mercoledì è ancora più raggiante, sembra, non so, forse è ancora più raggiante del solito, con noi Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno a Fabio e buongiorno a Viola. Grazie mille per essere qui con noi anche oggi. Mercoledì, ma comunque abbiamo notizie da dare lo stesso per tutta la settimana entrante. sul mondo del teatro, giusto Tami? E' sempre un buongiorno per parlare di teatro, quindi, peraltro oggi ho tre appuntamenti di teatro e una chicca, perché so che tu sei aperto e quindi parliamo di teatro, ma non solo, però questo è un appuntamento interessante anche per le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori. Allora, partiamo dal teatro ai Fukucini, perché c'è una personale di una compagnia che io seguo da molto tempo che si chiamano Maniaci d'amore, perché i due componenti del gruppo hanno unito i loro cognomi, Luciana Maniaci e Francesco d'amore, da più di dieci anni lavorano insieme e portano i loro tre spettacoli che li rappresentano, che sono Il nostro amore schifo, Petronia, Il desiderio segreto dei fossili e La fabbrica degli stronzi. Sono tre spettacoli che sono in scena da stasera a domenica, quindi potete scegliere uno dei tre spettacoli, potete vederli tutti e tre, secondo me tutti e tre raccontano la storia di questa compagnia, che è una compagnia che racconta i grandi disagi legati a temi molto macroscopici, quindi l'amore, la maternità, il nostro senso di disagio all'interno del sistema sociale, però attraverso un racconto molto surreale, molto ironico, molto divertente a tratti, ma anche molto crudele, se vuoi, perché hanno un linguaggio molto forte, molto colorito e soprattutto ci portano in un mondo quasi irreale, ma che di reale è molto, certo, quindi in realtà attraverso questa narrazione un po' sopra le righe ci portano invece molto nella realtà. Loro sono sempre in scena e poi sono coadiuvati da altri attori e attrici che si uniscono al loro lavoro, soprattutto per La fabbrica degli stronzi, hanno fatto una collaborazione con un'altra compagnia molto nota che è Crono Teatro, quindi potete avere la possibilità di vedere questi tre spettacoli. Quindi, Elfo Puccini, Milano, Corso Buenos Aires, Metropolitana Rossa Lima o Porta Venezia. Storia di una fabbrica che non va mai in crisi, ecco quello si potrebbe dire. E' un po' quello che raccontano loro. Immaginavo, immaginavo. Allora, poi ci spostiamo invece in un teatro di cui non ho mai parlato, ma che invece mi fa piacere parlare, che è il Martinit, che è un teatro che si trova in zona Lambrate ed è un teatro che si concentra moltissimo sulle commedie e quindi su una produzione teatrale legata, diciamo così, al sorriso. Loro fanno anche moltissime stand-up comedy con molti attori e attrici che appunto si confrontano con quest'arte. Invece, in questo caso, parliamo della Signora Papillon, che è un testo di Stefano Benni, che arriva al Teatro Martinit dal 1 febbraio al 4 febbraio, quindi da giovedì a domenica avete la possibilità di vederlo, con una compagnia che è la compagnia della bilancia, una compagnia romana, che collabora con il Teatro Martinit, la regia di Piero di Blasio e sono in scena Valeria Monetti, Ludovica di Donato, Mauro Conte e Piero di Blasio. E' una classica commedia ambientata, diciamo così, in un'epoca che noi pensiamo sia l'Ottocento, ma che in realtà poi ci sono tantissimi riferimenti anche al mondo contemporaneo. Al centro c'è la storia di una ragazza che è appassionata di rose e di farfalle, vive in questo mondo bucolico, in questo mondo lontano dalla realtà e ci sono questi tre individui che entrano nella sua vita, una donna, diciamo così, molto, una donna che sa quello che vuole, un comandante che vuole accaparrarsi la villa come gli altri tre componenti e un giovane insegnante, questi tre, queste tre persone intorno a questa ragazza vogliono conquistare la villa ed eliminare la ragazza. Quindi c'è tutta una serie di eventi, di epivoci che ruotano intorno alla storia di questa ragazza ed è molto divertente, il ritmo è molto alto ed c'è sempre l'ironia di Stefano Benni che insomma dilaga su questo palcoscenico. Quindi il Teatro Martinit, Stazione Lambrate, si può arrivare anche dal centro di Milano perché c'è la 54 che da Piazza Duomo parte e arriva davanti al teatro. Mamma mia, hai fatto i compiti benissimo oggi, anche le linee di superficie. Questi collegamenti. Poi ci spostiamo invece al, lo so che ne ho già parlato del piccolo teatro ma in questo caso è uno spettacolo secondo me da vedere perché stiamo parlando di come tremano le cose riflessi nell'acqua e l'ultimo lavoro di Liv Ferracchiati che è un regista che io seguo da tantissimi anni, mi piace molto come racconta i grandi classici perché in questo caso si parte dal gabbiano, quindi da un grande classico del teatro per raggiungere invece un racconto contemporaneo perché stiamo parlando, anche in questo caso si parla molto di arte perché al centro c'è la storia di un regista che deve confrontarsi, un regista che è in crisi, deve confrontarsi con due figure molto forti. La madre che è un'attrice affermata, che ha un percorso, una carriera importante e la ragazza con cui lui si relaziona che è invece una giovane attrice. Quindi ci sono queste due figure femminili intorno a lui che si, in qualche modo, che si relazionano con lui e che lo portano a chiedersi in qualche modo come l'arte possa incidere sulla propria esistenza e dove possa portarlo, se vivere e confrontarsi con l'arte possa essere una soluzione alle tante domande che la vita ci pone o se invece, diciamo così, chiudere il proprio percorso di vita sia l'unica soluzione per non cadere in facili soluzioni. E come sempre, sono temi sempre molto leggeri che io porto alla vostra attenzione, ma in questo caso devo dirvi che siamo, non l'ho detto, siamo all'autostudio melato, quindi Lanza, metropolitana verde, e devo dire che Liv Ferracchiati è un regista incredibile perché riesce a raccontare l'umanità, ma proprio l'umanità vera, quella delle persone, creando una relazione fortissima con il classico con cui si confronta. Ha raccontato Eda Gabler, ha raccontato Platonov, ha raccontato grandissimi classici, ma ponendo l'attenzione sull'umano che è all'interno di quel classico. Quindi secondo me anche per i ragazzi, le ragazze, per chi studia, per chi si approccia allo studio di questi grandi classici, anche dal punto di vista universitario, quindi per ragazzi e ragazze un po' più grandi, secondo me è un modo incredibile per entrare in quelle storie, per poter essere trascinati dentro quelle storie e non rimanere ai margini. Quindi secondo me è una grandissima occasione. Ti rubo un ultimo. Vai, vai, vai. La chicca. No, cosa hai detto? Una chicca. Perché secondo me è importante, c'è un incontro la prossima settimana, il 7 febbraio, alla Biblioteca Zara, raggiungibile facilmente con la metropolitana gialla fermata a Zara. Questa è la faccia. La Biblioteca propone un incontro mercoledì 7 a 17.30 con Lea Melandri, che è una giornalista e attivista del Movimento delle Donne, in collaborazione con la Casa delle Donne, racconta, diciamo così, i suoi libri, ma in particolare si concentra su amore e violenza, raccontando appunto le emozioni che nascono all'interno di un processo d'amore, però legate a una coscienza di quel sentimento, quindi una consapevolezza di quello che si prova e di quello che in realtà si scontra con la narrazione sociale, quindi ciò che sentiamo in confronto a ciò che in realtà ci viene raccontato e ci viene posto come racconto d'amore. Quindi secondo me è un incontro importante perché racconta la complessità del sentimento all'interno però di una narrazione sociale, che è sempre importante rapportarsi con ciò che viene raccontato e come ci viene posto un tema rispetto a quello che noi viviamo. E quindi è un incontro secondo me importante per avere una maggiore consapevolezza. So che è alle 5.30 del pomeriggio, quindi non è accessibile a tutti, ma secondo me se si ha la possibilità è un bellissimo incontro. Quindi Lea Melandri, mercoledì 7 febbraio alle 17.30 alla biblioteca Zara. 7 febbraio alle 17.30? Guardami, se ci fosse il padel uno ci va senza problemi alle 17.30, quindi non ci sono scuse sull'orario. Anzi, io spero che ci sia tanta gente che vada a questo incontro, ma soprattutto, lo dico spesso, tanti maschietti, perché siamo noi che a volte dobbiamo bisogno di capire certe dinamiche che magari sono ben chiare a voi e comunque avete bisogno di ricordarlo anche a tante altre donne, ma soprattutto dobbiamo ricordarcelo un po' più spesso noi maschietti che certe dinamiche dobbiamo capirle, comprenderle e poi dopo va bene, ognuno fa il suo, ci mancherebbe. Però avere consapevolezza è sempre un passo in giù. Infatti, infatti, infatti. Quindi io spero davvero di vedere una platea con anche tanti maschietti che ascoltino per bene quello che succede. Tamara, grazie mille. Ricordiamo prima di chiudere dove possiamo ascoltarti, ritrovarti. Oltre che da te. Oltre che da me con giorni alterni. Ma qui, ma il teatro è sempre un buon argomento per iniziare la giornata. È temporaneo. Quindi potete seguirmi con Teatro Mania il venerdì alle 16.40 su Milanao, canale 191 del Digitale, in streaming sul sito di Mediapason. Invece il lunedì in replica su Antenna 3 alle 23.30, canale 11. Ormai quant'anni è che sei a parlare di teatro in giro per la televisione milanese? Quest'anno 10. 10 anni! Quando è il compleanno proprio? Dovemo festeggiare? È già stato. Non solo per i festeggiamenti, però era il 14 gennaio. Ah, è che non ce l'hai detto. Ma come? Se tu non sei per i festeggiamenti, noi sì. Quindi adesso ti facciamo una festa a sorpresa, senza dirtelo, con cioccolato o frutta? Cosa preferisci per la torta? Sempre il cioccolato. Ah, ok. Sono fan del cioccolato. Però vabbè, la cosa più bella è avere la possibilità di avere quello spazio in grande libertà e poter condividere chiacchiere e confronti con gli artisti e le artiste che vengono e hanno la possibilità con me di raccontarsi e raccontare il proprio lavoro. Quindi lo facciamo qua, lo faccio là, è sempre molto bello perché il teatro, secondo me, va fatto conoscere. Si ha paura perché non si conosce del teatro, invece, così come per tutte le cose, si ha paura perché non si conosce. Quando si riconosce, secondo me, diventa poi un'abitudine. Eh, infatti, l'abitudine del teatro, questo è il tuo slogan che spesso utilizziamo e che mi piace veramente tanto. Ma la domanda che tutti si fanno, in questi dieci anni, quanti spettacoli hai scroccato? Ma, tantissimi, allora, devo dirti la verità. No, no, devo dirti la verità. Io mi invitano spesso e io non ho problemi a dirlo. Però devo dirti che quando voglio vedere uno spettacolo e non c'è la possibilità per qualche motivo, ho sempre scelto di vedere lo spettacolo che volevo vedere, anche pagando, senza nessun problema, perché, secondo me, i soldi per il teatro sono soldi ben spesi, perché mi fanno bene, quindi... Sono un investimento. I soldi del teatro sono spesi meglio che quelli dell'abbonamento in palestra, lo dico sempre. Anch'io lo penso, però non credo che tutti siano d'accordo. No, ma anche perché l'abbonamento in palestra lo fai e non ci vai, lo sappiamo già. L'abbonamento a teatro, se lo fai, tendenzialmente invece ci vai. Poi, possiamo dirlo, spendi i soldi per un biglietto, lo spettacolo non ti piace, vabbè, un'ora e mezza della tua vita, cosa può essere, dai. Capita, perché gli incontri, diciamo, la vita, gli incontri a volte accadono e sono interessanti, ma a volte passi anche una serata ad una cena che è noiosa, no? Perché capita con persone con cui non ti ritrovi. E così è per gli spettacoli, a volte non ti ritrovi. Addirittura ho visto degli spettacoli più volte, perché io a volte li vedo più volte, e a volte mi sono piaciuti e poi invece dopo anni non mi sono più piaciuti, perché sono una persona diversa rispetto a tu. Giusto, giusto, quello che succede col teatro, succede con i film, con i libri, con le robe di poi che arrivi dopo anni. Se avete delle cene noiose, vabbè, la cosa migliore da fare è invitare Tamara Malleo, che invece vi svolta la serata. Quindi, se volete, invitatela non solo a teatro, ma anche le cene. Immaginavo che ti sarebbe piaciuto come invito. Va bene, Tamara, noi invece ti inviteremo una mattina ancora qui per far colazione insieme. Ok? Fantastico, grazie mille, grazie a te, grazie a Viola, buon lavoro. Buon lavoro anche a te, grazie mille Tamara. E ora adesso andiamo con Loredana Berte, non sono una signora. Wow, che pezzo, signori. Calcutta, due minuti, con la sua due minuti, 8 e 31 minuti. E quanti minuti in questo intervento? Allora, cosa state facendo? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5. Il nostro numero di Whatsapp, se non arrivate anche i saluti e ringraziamenti per Tamara, per il suo intervento sul teatro, e anche i saluti a Selini, che abbiamo avuto ospite nella prima ora di trasmissione. Anzi, se volete andare a rivedere e riascoltare tutto, lo potete fare tranquillamente. Come? Facilissimo. Allora, good morning Milano. No, good morning Milano. La trovate su Spotify, su Apple Podcast, sul sito di Milano All News, ovunque potete rivedere e ascoltare tutto, anche su YouTube, tutto quanto, e sui social di Milano All News. Quindi trovate tutto quanto, tutti i nostri ospiti, i nostri interventi, i consigli del teatro con l'abitudine del teatro di Tamara Malleo, e le notizie che diamo qui. Ad esempio, notizie che andiamo a leggere dai giornali, ieri, protesta degli agricoltori milanesi. 250 trattori hanno bloccato le strade, chiuse due uscite dell'autostrada, e dicono non è finita qui, perché i trattori erano in marcia, quasi 300 agricoltori, con il numero che è cresciuto nel corso delle ore, così dice Milano Today, si sono ritrovati a Melignano, accanto appunto alla barriera di Milano Sud, per protestare contro alcune misure contenute nella politica agricola comune europea, il PAC, e nel Green Deal, in cui sono presenti dei vincoli che li convolgono appunto a livello di ricoltura. Loro ne vogliono meno, meno vincoli, e chiedono invece più incentivi, oltre ad un taglio delle tasse. Questo è stato il motivo per cui appunto più di 300 agricoltori si sono ritrovati all'uscita di Melignano e hanno bloccato le strade con i loro trattori. Protesta che sta montando in tutta Europa, tante le immagini che vediamo arrivare anche dagli altri paesi europei, e anche l'Italia non è da meno, infatti anche gli agricoltori del milanese, che ricordiamo Milano essere il secondo comune agricolo d'Italia, quindi dobbiamo ricordarci sempre questo, la provincia di Milano è molto, molto caratterizzata soprattutto nella parte sud verso l'Odigiano dall'agricoltura, un comparto, quello dell'agricoltura, un settore, quello dell'agricoltura, troppo spesso dimenticato, troppo spesso raccontato come qualcosa di così naif, bucolico, ma non è solo così, sono delle vere e proprie aziende, muovono milioni e milioni di euro, fanno lavorare la gente, fanno lavorare tantissime persone sul nostro territorio, e oltretutto ci danno anche prodotti di eccellenza, che noi poi siamo ben contenti di mettere sulle nostre tavole, e fare i fighi con gli amici, dicendo guarda questo qui, ma arriva, questo qui è chilometro zero, guarda, come fanno il formaggio lì, non lo fa nessuno, ha questo salamino che arriva, ecco, poi dopo però, siamo lì, che non facciamo assolutamente niente per difendere la categoria degli ricoltori, che diciamo, posso dirlo, a volte sembrano scontrosi un po', che diceva, ti spara con lo sciopotto, si diceva una roba, una volta, ecco, ti tira il forcone dietro, e ho capito, uno, svegliatevi voi tutte le mattine alle quattro per andare a muggere le mucche, due, andate voi a dare a ricampi, ok, che adesso c'è il trattore con l'aria condizionata, l'autoradio dentro, anzi, se siete in un trattore, ascoltate Cristal Radio, perché noi siamo con voi sul trattore, nel senso che, siamo di fianco a voi con la lotta, però, cioè, è facile, e non sono scontrosi o cose, è solo che ne hanno un po' le scatole piene, giustamente, giustamente, e quindi, continua la protesta degli ricoltori a Milano, in Italia, e non solo. Mr. Rain e Clara, alle 8 e 37 minuti, qui, su Good Morning Milano, state andando avanti nella giornata, com'è, siete già usciti o siete ancora in casa, fatecelo sapere, 331-7853-555, potete raccontarci tutto quello che volete, noi qui, questa mattina, questa mattina è un po' complicata, abbiamo avuto un po' di vicissitudini, dalle 6 e 20 di stamattina, quando praticamente arrivo in studio io, sì, non arrivo prima, lo so, arrivo praticamente quasi a ridosso della diretta, e pensate che c'è chi fa peggio di me, ma non faccio i nomi. Comunque, andiamo invece a Sanremo, perché fra pochi giorni inizia il Festival di Sanremo, oggi è l'ultimo giorno di gennaio, ma poi dal 6 di febbraio inizia, quindi meno di sette giorni all'inizio del Festival di Sanremo, e vi ricordo che c'è la Fanta Lega del Fanta Sanremo, quindi la Lega si chiama Crystal Radio, voi dovete scaricarvi l'applicazione e iscrivervi, ma volevo così, visto che mancano solo sette giorni, mancano meno di una settimana, a Sanremo volevo ricordarvi chi c'è in gara a Sanremo, li sapete tutti, vediamo se li sapete tutti, allora, vabbè, Joliet, ho detto giusto? Sì, ok, perché questo lo sbaglio sempre, è scritto Geolier, ma si dice Joliet, poi, Negramaro, Rose Villain, Villain, questa è giusta? Più o meno, Rose Villain, Rose Villain, Rose Villain, ok, perché si scrive Villain, quindi Rose Villain, Mahmood, poi Diodato, Annalisa, Il Volo, Emma, Francesco Ringaineck, Lassad, Irama, Big Mama, The Colors, San Giovanni, Il 3, Alfa, Maninni, Santi Francesi, Clara, e poi, Bunker 44, perché si scrive BNKR44, saranno Bunker 44, c'erano i Sun 41 una volta, c'erano, c'erano l'evoluzione, vabbè, c'erano punk comunque, lo dice anche la stessa canzone che cantano, perché si chiama Governo Punk, e comunque queste saranno appunto i 27, sono contati, mi sembra che sono 27, poi ne arrivano altri 3 dai giovani, che faranno tutti i 30 big i titoli di canzone, appunto, queste qui sono quelli che faranno il Sanremo di quest'anno, che appunto fra meno di una settimana parte in quel della Riviera Ligure, noi saremo lì a raccontarvelo, saremo lì per cercare di carpire anche qualche, così cerchiamo, magari vi portiamo una big bar, ma adesso devo farmi vedere la lista di tutti quelli che hanno a che fare con Milano, e cercare di portarmi quelli lì, perché voglio la dichiarazione su Milano, perché io vado a Sanremo per parlare di Milano, cioè capite quanto sono milanese centrico? Forse a volte un po' troppo, dite? Fatemelo sapere, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Sul Fanta Sanremo nostro, ad esempio, c'è una squadra che ha un nome interessante, si chiama Vince Elodie, Elodie invece non lo fa Sanremo, quindi il titolo della squadra dice tutto, ma Elodie invece ce l'abbiamo qui su Cristian Radio, per farci ascoltare Affari Spenti, e quindi Elodie Affari Spenti. Elodie Affari Spenti, Elodie no, non sarà Sanremo, ecco questo è quello che volevamo dirvi, quindi farvela comunque ascoltare, perché appunto settimana prossima da Sanremo vi racconteremo Sanremo, invece dalla Repubblica Milano, Olimpia di Milano Cortina 2026, Meloni e Salvini blindano i lavori per i giochi invernali, regia al governo e superpoteri ad Anas, un decreto cambia il comando della società per le opere delle Olimpiadi, corsia speciale per altri cantieri, il PD dice è un commissariamento e Fontana è immobile, Repubblica poi dice, con il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, il governo di fatto commissaria la società infrastrutture Milano Cortina 2026, guidata da Luigi Valerio Sant'Andrea, quindi il commissariamento lo dice sul PD, lo dice anche Repubblica. Affida ad Anas non più solo il ruolo di soggetto attuatore, ma anche di commissario per il completamento di quattro opere stradali, tutte in Lombardia, che sono allargamento della Statale 38, l'adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco, il consolidamento della Galleria del Monte Piazzo, il potenziamento di uno svincolo in località Piona e la messa in sicurezza della Statale 36, nella tratta di Giussano Civate, che finora era stata affidata come commissario proprio a Luigi Valerio Sant'Andrea. questo è quello che il governo vuole per accelerare la realizzazione di queste opere, il PD appunto dice però questo è il commissariamento, quindi vuol dire che questa è la palese prova del fallimento di questa conduzione regionale. In realtà lo dice anche Repubblica, quindi bisogna capire poi da che parte sta la realtà, tra di fatto che noi vorremmo solo una cosa, che facesse bene tutti i lavori, così che si arrivi alle Olimpiadi in tempo senza grossi problemi. Madame, l'eccezione! Bang Bang Baby, ve la ricordo sempre, una serie pazzesca su Prime Video che dovete andare a vedere. Allora, torniamo un attimo sul tema di cosa fa o non fa la Regione, dopo il commissariamento dei lavori di Milano Cortina 2026. Io, Regione, posso anche provare a difendervi, però ogni tanto fate delle robe che veramente è difficile difendervi, perché allora, sempre da Repubblica Milano, inquinamento sopra i limiti a Milano, c'è il mistero controlli per i blocchi anti-smog. Movin sospesa, ma le multe non vengono fatte. Cosa succede? La Regione non ha aggiornato la blacklist dei veicoli senza l'adergoa per Araby. Risultato? Le auto passano sotto gli occhi elettronici senza che venga rilevata la non conformità. Ebbene sì, l'emergenza smog continua, settimo giorno di fila con i valori oltre i 50 microgrammi per metro cubo per il PM10. Intanto il rispetto e i controlli sul provvedimento regionale che da ieri vieta la circolazione dei veicoli più inquinanti rimane un'incognita. A Milano le centraline ARPA hanno segnalato di nuovo l'allarme. 58 microgrammi per metro cubo di PM10 in Via Le Marche, 54 cittastudi, 63 in Via Senato, pensate che c'è in 100, 63, 53 al Verziere. Insomma, altissimi ancora tutti questi livelli di PM10 e sembra che oltretutto se non aggiornano le liste qua non si va da nessuna parte. The Alan Parsons Project, High in the Sky. Quanta bella musica c'è qui su Cristal Radio. Ma vi siete accorti di che musica vi facciamo stati tutte le mattine? Anche sul finale, pensa te. 8 e 56 minuti. Mercoledì 31 gennaio. A gennaio è finito. Happy gennaio a tutti quanti. Oh, io ve lo ripeto, non so voi, ma io quest'anno non ho vissuto quella cosa del gennaio che non finisce mai. Sapete quando si dice, ah, è il 39 di gennaio. Ecco no, io quest'anno, devo dire, siamo arrivati al 31 e quasi quasi mi sento al 18. È così, è così. Quando ci si diverte il tempo passa. Sto gennaio è andato via subito, in un attimo, perché ci siamo divertiti tanto. Un mese nuovo, il nostro 2024 in vostra compagnia. Il primo mese del 2024 fatto con voi. È sempre bellissimo svegliarsi la mattina. Dalle 7 e 9, qui su Crystal Radio, insieme a voi. E dopo di noi, Ambrogio Curti, con Senti Questa. Come sempre, la grande musica internazionale raccontata, spiegata, quasi divulgata, da quel geniaccio di Ambrogio Curti. E io adesso devo andare di là a prepararmi, e devo fare trucco e parrucco, perché oggi pensate cosa mi hanno chiesto quelli dei social. La nostra social media, Francesca, ci ha chiesto, dobbiamo girare un TikTok. Pensa a te come sto messo a 40 e passarne. E le voci le potete sentire anche domani mattina, di nuovo qui su Crystal Radio, dalle 7 alle 9, con una nuova puntata, un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Come sempre, tutti i giorni qui per raccontarvi Milano, la città metropolitana è quello che fa grande il nostro territorio. Ciao domani!